Noi abbiamo un grande successo in questa boeba, ma in un teatro la spezzata 500 persone. Qui sono due mille, tre mille mille. C'è il mio cane, la gente sostenirà. Dobbiamo andare a Refilia proprio dalla particolare prolonged. Andiamo a vedere cosa ci ha fatto per caratterizzare questi personaggi. Dov'è via uscerpi a greens. Il Teatro Lirico Sperimentale ci dà anche quest'anno la possibilità di esibirci all'estero, infatti stiamo partendo per il Giappone, come già l'anno scorso siamo stati ad Istanbul. I'm sure you get a big success this time.